Due modalità diverse profondamente contrapposte per seguire Cristo. Il Vangelo odierno ha offerto a Papa Francesco l'occasione per approfondire all'Angelus la figura del discepolo, del figlio di Dio. Da un lato ci sono i maestri della legge, contraddistinti per superbia, avidità e ipocrisia. Dall'altro una povera vedova che dona tutto quello che ha al Tempio, divenendo per il suo amore completo a Dio maestra di Vangelo vivo. Il Pontefice ha messo in guardia dai primi cui atteggiamenti sono anche oggi tanto diffusi. Ad esempio ha chiarito quando si separa la preghiera dalla giustizia perché non si può rendere culto a Dio e causare danno ai poveri o quando si dice di amare Dio e invece si antepone a Lui la propria vana gloria, il proprio tornaconto. Gesù oggi dice anche a noi che il metro di giudizio non è la quantità ma la pienezza. C'è una differenza tra quantità e pienezza. Tu puoi avere tanti soldi ma essere vuoto. Non c'è pienezza nel tuo cuore. Pensate questa settimana nella differenza che c'è fra quantità e pienezza. Non è questione di portafoglio ma di cuore. C'è differenza tra portafoglio e cuore. Alcuni anni hanno… ci sono malattie cardiache che fanno abbassare il cuore al portafoglio e quello non va bene. Amare Dio con tutto il cuore significa fidarsi di Lui, della Sua providenza e servirlo nei fratelli più poveri senza attenderci nulla in cambio. Dopo la preghiera a Mariana il Pontefice ha ricordato il quinto convegno ecclesiale nazionale che lo porterà martedì a Firenze e la giornata del ringraziamento che quest'anno ha per tema il suolo bene comune. Associandosi ai Vescovi italiani, Papa Bergoglio ha auspicato che la terra venga coltivata in modo da custodirne la fertilità affinché produca cibo per tutti, oggi e per le generazioni future.